Le side, di fronte alle quali l'umanità si trova, pongono a rischio la sopravvivenza del pianeta, a partire dalle conseguenze della condizione climatica, sino a modalità belliche che ci riportano epoche e condizioni che non hanno diritto di riproporsi, in cui i popoli divengono ostaggi delle politiche aggressive dei rispettivi governi. Derubricare a mera dimensione regionale l'attacco della Federazione Russa all'Ucraina sarebbe un errore capitale. I suoi effetti destabilizzanti si avvertono in tutti gli angoli del globo e vulnerano gli strumenti internazionali di cooperazione e di dialogo. La pretesa di riemergere nel terzo millennio della logica imperiale è inaccettabile. A suffragarla non soccorre neppure più l'alibi ideologico di confronto-competizione tra sistemi basati sui progetti di vita contrapposti. Rimane soltanto la logica della prepotenza. Ecco la ragione elementare per puntare sul multilateralismo per quei Paesi come l'Italia che rifiutano intenti imperialisti e non hanno l'ambizione di essere satelliti di alcuno, bensì di cooperare da pari con tutti gli Stati e i popoli di buona volontà, anche per governare la globalizzazione, facendone crescere la coincidenza con il perimetro della libertà e del benessere. Lo scenario terre contese, i diritti negati, riguarda con l'Ucraina anche l'Europa. Una ferita aperta nel cuore del nostro continente, riportando indietro le lancette della storia, a quando si riteneva possibile decidere le sorti di interi popoli in base a spartizioni di territori e di serie di influenza. Da 22 mesi il popolo ucraino si pone come argine a questa deriva e ancora una volta sono le vittime civili a pagare un prezzo alto. Si presenta in questo scenario, come a Gaza, la necessità di rendere stringenti le regole anche in guerra di quel diritto internazionale umanitario, la cui urgenza è emersa addirittura, come sappiamo, già con la Convenzione di Ginevra del 1864. È inammissibile che in conflitti armati di questo secolo vengano esercitati attacchi e rappresaglie che colpiscono la inerme popolazione civile. Tocca alla comunità internazionale impedire nuove avventure a questa politica di sopraffazione che trova emuli in diverse situazioni e in più continenti.